GT Sport Top Team presenta il sorpeggio dei semifinali Alfa Romeo Cup ma prima salutiamo i nostri sponsor We Can Race, DrivingItalia.net, Driving Simulator Center, Sparco, 3D Rap e Virtual Gaming grazie, grazie per credere in GT Sport Top Team Ciao a tutti da BillyBully, bentornati sul vostro canale allora siamo qua per fare l'estrazione, il sorpeggio, per abbinare i team nove team che hanno vinto andranno in semifinale quindi semifinali Alfa Romeo Cup GR4 4C quindi attenzione, si va veramente dentro, come si può dire, nel cuore di questo evento perché le 4C si sale di livello, le mito sono state fantastiche ma le 4C ragazzi ci hanno fatto volare eccoli qua i nove bigliettini andiamo subito a farli girare come se sono delle calde arroste e noi ce le mangiamo eccoli qua che volano i team vola uno fuori, anche addirittura hanno voglia di correre e allora andiamo a vedere subito chi sarà il primo team a mettere le ruote in pista signori e signori, GT Storti 1 ho dimostrato di essere veramente uno spettacolo ragazzi hanno fatto il poker quindi GT Storti team 1 mamma mia ho i brividi ragazzi ho i brividi vediamo chi abbiniamo a questo fantastico team signori e signori di Motorsport Italy 3 mamma mia ragazzi già mi vengono i brividi Motorsport Italy team 3 andiamo a vedere chi si imbina chi entra dentro in questa morsa tra questi team volano i bigliettini ragazzi attenzione mi viene tra le mani questo uuuuuh signori Cobra Racing Team 2 Cobra 2 mamma ragazzi già me lo vedo questo scontro ragazzi Cobra team 2 me lo vedo già questo scontro e vai con le cante arroste ragazzi oggi il sacchettino con 10 cante arroste lo vendiamo a 2 euro e allora eccolo qua viene in mano questo ragazzi come potete vedere sono chiusi io non so che e come per magia vengono fuori ancora i Cobra Racing Team 1 per la seconda semifinale quindi Cobra team 1 e ancora andiamo 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 a vedere un attimino eccolo qua questo mi è rimasto attenzione mi è rimasto addirittura chiuso nel dito quindi questo è voluto proprio venire fuori perché si vuole proprio scontrare con i Cobra vediamo chi sono che si fa e sono eccolo qua c'è Diego Monster i Monster Racing Team 3 Diego che vuole proprio scontrarsi con i Cobra quindi Monster Team 3 vai che si gira vai che gira la ruota attenzione vediamo cosa mi rimane in mano questo qua questi qua chi sono signori 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 eccoli qua i Monkey Monkey Racing Team 2 lo leggete eccolo qua Monkey che ragazzi hanno fatto dei garoni incredibili quindi si sono una new entry e hanno subito fatto vedere di che parte sono quindi i Monkey Team abbiamo detto 2 dove è finito dove è finito dove è finito i Monkey 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 dove sono finiti i Monkey comunque Team Team 2 eccolo qua Monkey Team 2 bene signori ultima gara 3 biglietti questo qua non è il biglietto questa è l'etichetta ragazzi non venite fuori che nascondi i biglietti nel cappello che non sono il mago Silvan io sono Billy Bulli ragazzi Gb Sport Team trasparenza e serietà eccoli qua vai perché mi schiaffare cosa mi schiaffare tanto questi sono i tuoi team ragazzi sono benissimo Monkey Racing Team 1 complimenti a Igor Monkey Team 1 con vediamo chi c'è qua signore e signori eccolo qua l'altro poker il Leopard con MSC complimenti il Leopard mamma mia ragazzi che scontri e chiude chiude il sorteggio con l'ultimo team i Monster Racing Team 2 signori e signori eccolo qua questo è quanto le semifinali Alfa Romeo Cup GR4 quelle 4C primo GT Storti Motorsport Italy e Cobra seconda gara Cobra Monster e Monkey terza gara Monkey Leopard e Monster non sono gare che rispetteremo quindi adesso in base alla disponibilità dei piloti vedremo qual è la prima la seconda la terza quindi ragazzi preparatevi le 4C e andiamo a sgommare in pista ciao a tutti ciao a tutti da Billy Bulli ci si vede in pista e sono pronto ragazzi a gridare sempre per voi credeteci credeteci sempre perché con GT Sport il sogno diventa realtà ciao GT Sport una famiglia di campioni grazie a tutti